Buonasera amici del Barcanti, buon lunedì a tutti, benvenuti ai nostri mezzi concerti, stasera qui per noi a Barcanti suonerà la sindrome distendale, a fianco a me c'è la voce della band Maria Laura. Maria Laura, quando è nato questo progetto e come? Allora il progetto è nato circa due anni fa e l'abbiamo utilizzato in realtà io e la bassista e volevamo fare appunto un progetto inverso dagli altri, non portare la musica rock e pop nei locali bensì una musica blues e soul che fosse soft ma ovviamente arrangiata a modo nostro per farci conoscere e per essere singolari. Questo è il fine del mondo. E poi ovviamente abbiamo cercato tutti i componenti, mesi e tanti. Sì siamo in sei, io alla voce Maria Laura Madra, al basso Santo Torepetta, la chitarra Mario Di Sio, la tastiera Alfonso Genovese, e la batteria Emanuele Moschese e poi la tromba Armando Giordano. E diciamo che la tromba è un po' la nostra, la chiamo una nota dissonante il gruppo, perché fa tanto rumore però da anche quel pizzico di originalità in più e quella marcia in più. Ecco. Stasera cosa ci proporrete, più cover o inediti? Stasera vi proporremo delle cover, ovviamente arrangiate a modo nostro, e per quanto riguarda gli inediti sono ancora in cantiere anche perché, insomma per noi sono importanti ed è un passo importante, quindi piano piano ci arriveremo e speriamo... Sarà uno dei prossimi progetti. Sì sì sì, sarà uno dei prossimi progetti, sì. Siete social? Sì sì sì, abbiamo una pagina Facebook, cercate la sindrome di Stella, abbiamo anche una nostra immagine che ci rappresenta, e questo lì potete trovare delle foto e dei video. Anche la scelta del nome, non è un caso immagino. Beh, la scelta del nome è particolare. In realtà il filo conduttore tra il significato del nome e il gruppo è un po' sottile. La sindrome di Stella, appunto con una sindrome che si è sviluppata a Firenze dell'Ottocento e che lasciava sui stupefatti o qualsiasi persona che si affacciava alla galleria degli Uffizi e vedeva un quadro. Allora noi vogliamo il fine, proprio quello di creare lo stesso stupone e la stessa emozione di cui ci seguiamo. E poi ci piaceva anche quello, perché era un po' strano, un po' singolare e ci piaceva anche dare oggetto. Sì, la verità. Ah, quindi sì. Una citazione. Sì, anche, anche. Grazie. Grazie mille. Maria Laura è stata grandiosa. Io a parte ne sono rimasta affascinata. Prima facciamo riunione da San Capri e ascoltarti. Anche adesso ho una voce molto molto bella e coinvolgente. Sbocca al lupo per tutto. Grazie. Io vi ricordo che il concerto è audio ripreso da Luma Studio grazie a Maria Lucio e l'intervista e ci sarà un reportage fotografico a Fura di Lightroom Studio. Ragazzi, bocca al lupo ancora. Divertitevi e mettete un bel mi piace anche alla mia pagina del Barcafi. Grazie ancora e buona settimana. Grazie. Grazie.